Ok, ciao a tutti, quest'anno mi ritrovo in Indonesia e più precisamente al momento sono sull'isola di Lombok come al solito mi trovo in circostanza di pioggia e ovviamente in motore dunque anche se ho avuto dei disguidi e ci ho litigato un paio di anni fa, ci ho fatto la pace al momento ecco che stavo dicendo, sono su quest'isola di Lombok, me l'avevano descritta molto lussureggiante e verdeggiante ed è proprio così, qui la vita non è frenetica come su Bali e si vive abbastanza bene, solo che praticamente non c'è niente e allora cosa farà il nostro eroe? Il nostro eroe andrà alla ricerca delle solite cascate sotto la pioggia, dove sono queste cascate? Io non lo so, però adesso chiederemo in giro e pian piano ci fiuleremo nella solita foresta e andremo a vedere ok, non si molla mai qua